Buongiorno a tutte e ben ritornate nel mio vlog. Oggi faremo la quarta parte dell'unboxing di Shane e vi farò vedere tutte le nuove novità arrivate proprio qualche giorno fa. Nel frattempo vi mostro la mia postazione preferita, c'è anche il mio quaderno dove sono inserite tutte le cose giornaliere che io mi scrivo per quanto riguarda i miei impegni. Lo shopping e quant'altro. Comunque, ciak, si gira. Allora, eccoci qua con un bel casino. Allora, questa è la panoramica della giornata di oggi. Può sembrare che non si capisca niente, però piano piano ora vi adocchio tutto per bene e vi mostro ogni singolo capo. Allora, questo ordine io lo considererei come un ordine molto elegantino, perché la maggior parte dei capi sono tutti elegantini, tranne lui di cui vi voglio parlare subito. Ma nel frattempo vi voglio ricordare che per restare sempre sintonizzati con me, vedere le mie novità in generale, dovete iscrivervi al canale, attivare la campanella lì al lato e così rimarrete sempre sintonizzati. E ovviamente, se questo video vi sarà piaciuto, di mettere un like o anche commentare nel caso in cui vi è piaciuto qualche capo, magari vorreste informazioni aggiuntive relative a Shane o eventuali resi o eventuali capi che vi hanno colpito. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito questo unboxing. Come vedete lì c'è la scatola, anzi il sacchetto dove mi sono arrivate tutte le cose proprio qualche giorno fa e io ho già messo tutto qui in modo che voi possiate vedere tutto l'ordine che mi è già arrivato. Quindi partiamo da lui, l'abbiamo già detto. Bene, parliamo di questo bomberino, piumino. Io l'ho preso proprio per stare comoda durante la settimana, volevo qualcosa di sportivo ma nello stesso tempo qualcosa di trendy che mi dasse la possibilità quindi di stare in un certo qual modo comoda ma nel contempo avere qualcosa di caldo perché in base alla stagione ci ritroviamo quindi ad aver avuto un freddo bestiale e quindi volevo qualcosa di figo ma nello stesso tempo caldo. Mi ero indirizzata con un colore beige o barrabbianco perché mi piaceva l'idea di avere qualcosa molto chiara che non avevo mai avuta e da qui l'idea di prendere questo capo. Però vi dico subito che in realtà non mi è piaciuto più di tanto. Ora vi dico perché è un ottimo comunque capo, non dico che la marca non sia abbastanza ottima però ho fatto un buco nell'acqua perché per quanto sia fatto bene, vedete, è ben rivestito e quant'altro però quando lo indossi sta enorme. Giustamente mi potete dire sì, i bomberini stanno enormi quindi è tutto nella norma però in realtà dietro, vedete, io lo volevo proprio così, sagomato in questo modo che fosse bombato con delle cuciture però questo fa un effetto qua dietro guardate quanto è ampio fa un effetto qua dietro troppo ampio che tra l'altro come vedete qui da dove ci sono le maniche a dove comunque finisce la parte del bomber è troppo attaccato come se fosse diciamo una forma a pipistrello e fa un brutto effetto quindi per questo motivo ma anche diciamo che il materiale è anche un po' cheap nonostante sì di davanti lo trovo veramente carino con questa parte che è di tessuto anzi è di velluto più che altro però nonostante ha le tasche nonostante è ben rivestito all'interno però esteticamente un po' questa parte qui dietro sembra cheap e poi proprio per la vestibilità che come ho detto è orrenda io ho deciso di rimandarlo indietro quindi già vi spoilerò una cosa che io rimanderò indietro quindi iniziamo bene proprio l'ordine perché vi ho parlato di un prodotto che già devo mandare indietro però ci saranno delle belle chicche per quanto riguarda in generale l'ordine perché come ci sono i pro ci sono i contro però vi mostrerò presto una cosa bella perché in questo caso questa giacca per me è stata una sorpresa per come per come è la sua vestibilità ma per come è anche di bellezza non me l'aspettavo così esteticamente particolare perché l'ho vista mi piaceva l'idea di avere questo blazer molto da uscire perché è proprio marrone c'è questo disegno geometrico chiamiamolo così però è marrone quindi è mezzo beige e mezzo marrone questo disegno geometrico però mi piace proprio come sia elegante nello stesso tempo e l'effetto che fa addosso allora che dire di questo blazer a parte che è bellissimo è rivestito veramente bene guardate e poi c'è questi due bottoncini qui nei laterali la classica il classico colletto da giacca come piace a me le classiche maniche come piacciono a me guardate le ho già aperte con cura basta che vi mettete con una forbicina riuscite a togliere l'eccesso e poi c'è i bottoncini pure qui nelle maniche è fatto davvero bene e che dire lo guardiamo anche di dietro perché perché c'è quello che piace a me cioè la parte finale questa sorta di spacco che già ho trovato aperta è veramente fantastico è caldo è perfetto proprio per la stagione invernale infatti non vedo l'ora di metterlo perché mi è arrivato ancora da poco come tutto il resto e quindi non vedo l'ora di percepire il suo calore perché ha una vestibilità abbastanza comoda quando ho pensato a questo blazer ho pure pensato all'idea di cosa poterci indossare perché mi è venuta molto questa fissa delle cinture sul blazer è una cosa che adoro sia per i blazer sia per i cappotti è una cosa che mi ha incuriosito così tanto comunque mi porta tantissima voglia di creare l'effetto e quindi per questo motivo sono andata alla ricerca di cinture non che non le avessi però di cinture magari più specifiche in modo che possano essere molto comode da utilizzare per queste situazioni qui e per questo ho preso quattro tipologie di cinture di cui due sottili e due più grosse che sono là e poi ora le vedremo meglio allora parliamo di queste sottili allora ho deciso di prendere come spunto di colore in questi casi di prendere il nero e il marrone scuro il marrone cioccolatoso scuro perché sono i miei colori preferiti per l'inverno e quindi ho preferito diciamo andare sul sicuro e utilizzare questi colori neutri allora parliamo subito di entrambe questa è una cintura sottile nera che come vedete ha già i buchetti inseriti e questa va benissimo già nella parte sopra dimensione vita io l'ho già provata con un blazer ed è fantastica quindi se la volete cercare io nel frattempo vi lasso qui il suo codice questo è il suo codice e troverete questa cintura perché gli ho lasciato i loro involucri proprio perché sono abbastanza comodi mi piace questa cosa che si chiudono e quindi gliel'ho lasciata apposta e quindi questa riguardava la cintura nera vediamo adesso la cintura questa marrone più scura che è meravigliosa come potete notare sembra una cintura in vera pelle è impressionante come la pelle è cucita cioè come l'effetto sintetico della pelle è cucito così bene ed è fatta così bene questa cintura c'ha pure questa parte satinata dorata e poi ovviamente già i buchetti fatti pronti ma in più ho trovato pure questo aggeggio questo accessorio per poter fare i buchetti ulteriormente qui anche mi sono lasciata ispirare nel mantenere il suo secchetto perché così almeno stanno ben comodi questo è il suo di codice e quindi se siete interessate a vedere una di queste due cinture entrambe almeno avete l'idea di quale sono nello specifico i loro codici ora che dire andiamo avanti e parliamo poi le cinture più grosse le vedremo dopo e parliamo di blazer perché questi blazer io ho già fatto degli short degli short su youtube e sono andati veramente alla grande ho visto come molta gente è stata interessata a questi blazer per quello ho deciso di parlarvene a parte e farvi vedere meglio come sono nell'effettivo allora questo qui rosa tra l'altro è un tessuto se non mi sbaglio si chiama plazcore ora non voglio dire dovrebbe essere questo così c'era scritto su shane allora qual è la particolarità di questo tessuto innanzitutto che è bello pesante quindi se non avete particolari problemi che magari non vi punge ovviamente questo materiale qui è semplicemente pesante e poi è ben rivestito perché appare abbastanza spesso poi c'è questa particolarità dei bottoni che sono in perla in finta perla vedete tutti abbastanza messi nel loro posto e poi è fatto davvero bene questo lo trovate al costo di 34 euro me lo ricordo perché ho voglia di prenderlo pure bianco in questo modo e ora vi spiego perché questo rosa in realtà ho deciso di rimandarlo indietro intanto non perché abbia qualcosa che non va perché appunto lo sto riprendendo e lo prendo di un altro colore ma perché sono riflettuto e diciamo che voglio creare l'effetto plazcore con un colore che più mi si addice da un punto di vista invernale perché ho sempre immaginato di avere una giacca rosa come questa però trovo che mi sia meglio con un effetto crop infatti ho delle chicche belle poi in un futuro da farvi vedere perché ho intenzione di prendere qualcosa di rosa sempre così in versione molto elegantina che lo trovo ancora più particolare quindi nel frattempo io vi mostro la bellezza perché dovete assolutamente prenderla è bellissima è rivestita bene c'ha tutto questo rivestimento bianco fatto bene ben cucita anche questa è una S quindi parte da una S e che dire cioè prendetela è troppo bella nonostante io la voglia rendere e prendere un altro colore devo dire che che fa innamorare facilmente tutte vi posso assicurare tutte qui c'è il codice perché ormai come ben sapete se avete visto gli altri miei video dove appunto mostro le cose ma poi in alcune ci sono i sacchetti la maggior parte di quelle che hanno i sacchetti significa che li voglio rendere quindi ormai mi conoscete e sapete che il motivo per cui ho il sacchetto è proprio per questo reso che io voglio fare quindi questo è il codice vedete è una S la vestibilità è abbastanza ampia non è quel tipo diciamo di zacca che sta enorme nonostante è una S perché io comunque genericamente vesto una XS come vedrete poi per il blazer crop da quella parte però devo dire che questa sta veramente bene una S non è abbastanza enorme quindi si può prendere prendetela ha pure delle spalline non troppo invadenti io adoro le spalline perché rendono l'outfit ancora più elegante e più particolare e quindi dove ci sono un valore aggiunto in più che fa bene ok dopo questo blazer andiamo ora dall'altra parte perché vi voglio mostrare il fratello chiamiamolo così quindi togliamo intanto il sacchetto dove è arrivato tutto e vi parlo di questo blazer meraviglioso anche lui particolare allora questi blazer con doppio petto perché come vedete hanno la doppia il doppio bottone questo è un doppio un bottone trasparente messo qui proprio per creare la vestibilità più snellente quindi se lo volete più diciamo più slim quindi si inserisce apposta per fare in modo che voi possiate stringere ancora di più il blazer e creare un effetto più slim ok che dire di lui ha questa particolarità del bottone qui laterale questo come vi dicevo è una xs ed è crop io posso dire che mi sono convertita ai blazer crop li trovo adorabili li trovo assolutamente fantastici per la primavera barra estate perché a parte che comunque essendo che fa più caldo sono più comodi perché creano appunto uno non soffre il caldo con un blazer più corto non è questo caso perché questo è un blazer invernale corto però trovo che i blazer corti siano veramente ottimi sia di vestibilità perché creano un outfit molto più più snellente e sia a livello comunque se c'è caldo è meglio averlo corto che non fa sudare io un po' la trovo così in batti sto prendendo un sacco di blazer crop in fissa per la primavera proprio perché voglio sbizzarrirmi avere questi effetti belli snellenti sopra nella parte sopra allora da questo punto di vista vi posso dire che il blazer mi sento un po' costretta a rimandarlo indietro anche questo perché c'è da dire che essendo una XS ed essendo molto ben rivestito come potete notare c'è questa parte che è la parte di congiuntura tra il braccio e quindi la parte qui che scende che abbastanza mi stringe leggermente se io dovessi mettere magari un maglione un po' più pesante tipo anche un maglione a dolce vita pesante quindi questa cosa un pochettino mi ha fatto storcere il naso e quindi ho detto aspetta un attimo vediamo se prendere una S perché comunque i crop a differenza di quelli un po' più lunghi magari hanno bisogno forse hanno bisogno di un po' più di una vestibilità un po' più larga però non è detto cioè nel senso non è detto che comunque uno debba prendere in questo caso una S per forza perché in questo caso che è invernale ed essendo che ci sta sotto un maglione o comunque qualcosa di più pesante è normale che fa più più peso e quindi c'è questa cosa che va in contrasto con il maione però nel caso della primavera e dell'estate come vi dicevo non c'è questo rischio perché perché essendo la maglia di sotto più sottile più delicata quindi una giacca in questo caso un blazer crop anche se XS andrà benissimo perché non va a colluttare con con la maglia di sotto che comunque è abbastanza leggera quindi questa è la differenza fra le due tipologie comunque il motivo è per questo lo mando indietro perché è piccolo però ho deciso lo stesso di non riprenderlo nonostante adoro come mi sta perché è molto bello veramente guardate il dietro cioè è fatto bene però non lo so c'è qualcosa che comunque non mi fa venire voglia di riprenderlo perché preferirei magari prendere un completino e avere già qualcosa che possa utilizzare in maniera completa e non come in questo caso che invece ho solo la giacca ma non riesco a trovare magari qualcosa di effettivamente interessante da poterci abbinare di sotto nonostante comunque ci sono cose come ad esempio dei pantaloni bianchi però essendo invernale io il pantalone bianco comunque lo utilizzo molto di più in primavera rispetto ad un inverno e quindi in questo caso li trovo un po' e quindi non andrei a creare questo tipo di outfit con dei pantaloni bianchi allora io vi voglio mostrare lo stesso il suo codice perché merita essere preso se magari voi trovate dei modi per magari prenderlo posso dire che però merita essere preso a prescindere che io lo stia rendendo perché comunque è un bel blazer crop e ha pure la particolarità di questi bottoncini da club quindi posso posso dirvi che merita ok io direi di andare avanti e di in questo caso farvi vedere un piccolo eccolo qua un piccolo aggeggio accessorio che io ho preso perché ho tanti vestiti che hanno bisogno di essere tolti i pelucchi e quindi ho preso questo piccolo mini togli pelucchi che tra l'altro è da viaggio l'ho preso apposta piccolo perché magari mi potrebbe servire portarlo per il viaggio se magari mi ritrovo fuori ho bisogno comunque di un aggeggio simile quindi posso dire che almeno ce l'ho con me allora questo è il codice per farvi vedere nello specifico quello ho preso e la cosa bella di questo togli pelucchi è che quando lo chiudi perché si chiude guardate si chiude poi i pelucchi vanno a finire in questa parte grigia dove si tolgono e poi si può rimuovere questa parte grigia e andare a buttare i pelucchi quindi la particolarità è questa e l'ho preso per questo motivo non credo proprio che lo rimando indietro perché mi sembra molto utile non mi ha deluso e quindi lo tengo con me va bene ok io voglio continuare con le cinture perché vi ho spiegato prima che ho preso delle cinture sia piccole cioè sia sottili che abbastanza grosse allora vi mostro una di queste cinture grosse perché comunque l'altro è uguale non è che cambia mi è piaciuta la particolarità di questo cinturone chiamiamolo così spesso quadrato perché lo trovo molto molto sexy mi piace da morire nello stesso tempo lo trovo abbastanza elegante quindi mi sono un po' fissata con questo genere e ne ho prese due questo ce l'ha più sottile questo marrone cioccolato mentre lei questa qua ce l'ha più grosso vedete la particolarità è sempre uguale è un po' più grossa delle altre e c'ha pure questo questo che serve per mantenere il blocco e poi anche qui mi hanno dato vi faccio vedere mi hanno dato il l'aggeggio per poter fare i buchetti questo questa cintura è uguale a quella quindi come potete vedere la bellezza è che è marrone cioccolato marrone scuro e quindi queste erano le cinture che vi volevo far vedere sono entrambe comode anche per i blazer o i cappotti come vi ho detto perché sono già predisposte le ho provate sono già predisposte quindi se vi può essere utile io vi lascio ugualmente i link qua i codici link ormai sono in fissa con i link e questo è di quello marrone scuro li lascio nei loro involucri così sono ben protetti e passiamo all'ultimo capo di questo bellissimo ordine perché mi è piaciuto molto questo ordine nonostante non non c'è non c'è stato cioè purtroppo qualcosa si rende sempre può capitare io vi ricordo una cosa per quanto riguarda le cinture state ben attente a prendere le cinture perché Shane non vuole che le rendiate quindi quando prendete le cinture state ben attente io sono contenta di quelle che ho preso perché non c'era la ben che minima intenzione di andarle a rendere o comunque o che non mi siano piaciute perché sono ultra contenta di queste che ho preso finiamo con questo bellissimo completo che ho preso all'ultimo secondo era tra l'altro in sconto ed ero abbastanza scettica però ho detto ho bisogno di un bel completo rosa mi ero fissata con rosa come potete notare e quindi ho detto voglio prendere questo completo rosa affinché possa avere qualcosa nel mio armadio primaverile come si deve e un completo è l'occasione migliore non ne ho mai avuti quindi ho iniziato diciamo da questo spero di prenderne altri perché mi piace proprio la tipologia e partiamo subito pantalone e blazer allora il pantalone come vedete è questo rosa cipria molto molto delicato sono leggeri significa che si mettono in primavera scusate per la voce ma ancora non sono riuscita a riprendermi del tutto dall'influenza però nonostante tutto teniamo duro vi voglio far vedere la particolarità del pantalone ok che è la stringa e che ha queste finte chiamiamole finte tasche perché appunto il pantalone si presenta in una versione che vuole essere elegante perché di davanti vedete ha questa stringa bellissima elegante dietro ce l'ha più arricciosa per chi come me non ha una dimensione vita abbastanza larga e quindi viene stretta ecco ok c'ha pure le tasche quindi bellissima questa cosa che ha le tasche la trovo molto utile il colore ragazze non ve lo dico è di una bellezza io mi sono innamorata di questo colore e ora un po' meglio perché lo sto avvicinando vi faccio vedere la giacca allora la giacca è un doppio petto non è rivestita come potete notare quindi è molto molto leggera ha dei taschini finti ok sono tutti finti però anche qui c'ha se non ricordo male anche lui c'ha no non ce l'ha lui pensavo che avesse il bottone quello finto trasparente no lui non ce l'ha ok quindi c'ha questo bottoncino ok che dire è veramente bella nonostante non è rivestita perché comunque fa caldo è perfetta da utilizzare anche per l'estate magari c'è un po' di freschetto una vuole essere in trendy e si porta questa giacchetta che è molto molto leggera è un rosa neutro e quindi è abbastanza versatile questo è il dietro come potete vedere non ha bottoncini non ha niente però è abbastanza elegante quindi io direi ottima votata proprio a pieni voti insieme sono una bomba mi è venuta una grande voglia lo so che poi sembra un po' esagerato però mi è venuta una grande voglia di comprarci delle decoltè rosa cipria e ho già intenzione di prendere pure la borsa lo so poi sembro troppo rosa cipria ma io ormai mi sono innamorata di questo colore o in ogni caso comunque si può giocare col bianco si può giocare col nero si può giocare con qualsiasi cosa con un outfit così neutro bene 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 questo era tutto tutto l'ordine di questo giro chiamiamolo così sono soddisfattissima mi dispiace per i resi però prenderemo cose più belle l'importante è quello che dire allora raga se vi è piaciuto questo video vi è piaciuto appunto i completi quello che ne è derivato io vi invito a lasciare un bel like qui e mi raccomando ci vediamo la prossima volta per altri round di scene perché non sono finiti qui alla prossima un bacio ragazze grazie a tutti